Gin Day 2018, Mavi Drink, Armando Follari, il gin in tre parole per voi? Il gin in tre parole è il gin crespo e il gin internazionale, quindi un prodotto che arriva dall'Equador, un'esclusiva Mavi Drink per il 2018 e per gli anni a seguire, un prodotto fatto con acqua purissima delle Ande, botaniche tipiche dei London Dry, tranne l'aneto che lo caratterizza, imbottigliato a mano, etichettato a mano, doppia medaglia d'oro a San Francisco, ci crediamo tanto perché il prezzo è centrato e il prodotto è fantastico. Oltre a questo poi i soliti prodotti, Barexten che è il top di gamma, Black Tomato al pomodoro nero, Volcanic, un prodotto tipico della Catalogna, anche lui pluripremiato, e poi Jodbur che è il top di gamma, il top delle vendite di Mavi Drink.